Ciao a tutti voi amici visionari che come me amate il cinema e le serie tv, io sono Laura Buffa del sito visionaire.fm e in questa playlist del canale di Visionaire voglio occuparmi delle serie tv, voglio fare delle segnalazioni, dire cosa penso di quelle che ho visto e chiedere anche a voi che cosa ne pensate di quelle che avete visto voi. Scrivetemi qua sotto nei commenti le vostre opinioni, ci tengo veramente tantissimo, mi farebbe molto piacere. In questo tempo di quarantena appunto abbiamo più tempo libero, più tempo per recuperare magari quella serie che volevamo vedere ma che ci è sfuggita perché appunto non avevamo altro da fare e l'altra parte quando ora ci sediamo sul divano e apriamo le diverse applicazioni, le diverse piattaforme c'è veramente da perdersi nel mare dell'offerta, è veramente tantissima. Ecco allora questo piccolo spazio serve anche un po' per orientarsi nel mondo delle serie tv a disposizione sulle diverse piattaforme. Oggi vorrei parlarvi di una delle prime serie che ho visto, Good Homens su Amazon Prime Video. La serie racconta di un angelo e di un demone che si combattono sulla terra fin dall'inizio dei tempi e questi due uniscono le forze per evitare la fine del mondo che sta arrivando e però loro non hanno nessuna intenzione di lasciare la terra perché alla fine ci vivono bene e alla grande. Non fatevi scoraggiare da un inizio un po' lento e dall'umorismo molto british perché poi la serie vi darà soddisfazione. Menzione speciale per la sigla di testa animata e per la musica dei Queen. Purtroppo ci sono delle voci fuori campo che in originale sono di grandi attori, per esempio Dio, la voce femminile di Frances McDormand che in italiano purtroppo si perde. Cosa ne penso? Bellissima, mi è piaciuta veramente un sacco. Purtroppo io sono in attesa della seconda stagione anche se purtroppo non credo che arriverà perché una confessione religiosa si è un po' lamentata, ma fatevi una risata. E voi lasciate invece qua sotto un commento oppure lasciate un mi piace, condividete con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella qui sotto se volete ricevere in automatico gli avvisi quando arrivano appunto nuove puntate delle mie recensioni. Grazie per l'attenzione e al prossimo episodio. Ciao ciao!